Giuda, grazie mille dei 100 bit, gentilissimo caro Ho entrato nel locker per non farsi scossare, bravo Ecco, invece mi è camminato letteralmente davanti Ah, non ho range, vero Senza range è un po' susso come cosa Però ho pensato non fosse per forza necessario Maki, grazie del bittini Vuoi il babbo? È detta così Non l'ho capita questo Perché no, che scanno forse è passato troppo poco tempo dall'altra volta Non ti saprei diramo Nice E il primo va su Grazie del bittini boys Alla Speravo di riuscire a tirarlo giù Ho provato Speravo che non ci riuscisse Peccato Com'è non è partito Penso che forse perché è passato troppo poco tempo dall'ultimo che c'è stato Non saprei però Ormai è andato fuori quello Qualcuno è qua sopra Non sono proprio in una buona zona qui Perché per fortuna questo non mi sembra molto bravo Scossa Value Vedo qualcuno lì Questo del sangue Pronto a cercare di fare il save Già ne è partito non so quale Quello lì sopra credo Prendo pure le polli di neve Però ragazzi ho messo bene lo stesso Mi pare che non ha l'anti-slug build Perché ho visto il cavallo Ho pensato all'anti-slug per un attimo Gusti qua Qua è tosto per loro Eh ok Non ho detto Vediamo sto pallet The Dard Bello questo The Dard D'altro che Facciamolo urlare Va bene comunque anche se non l'uccido Quanto stai con i rank Sai che non lo so Gabbo Non li tengo mai sotto controllo Tanto non mi interessa più di tanto Come sta procedendo Comunque procede molto bene Ci stiamo asfaltando Stiamo cercando di fare Dell'end-game build E non ci arriviamo in end-game Va che roba Letteralmente Quali kill sono totalmente inutili Freddy 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 No in realtà di killer Totalmente inutili Non ce ne sono In realtà Ma proprio totalmente Non ce ne sono Sono rincastrato In realtà volevo andare di là Ma È la maleducazione Con i twins Io mi sento impotente Perché la giochi in maniera sbagliata Probabilmente I twins sono l'unico E killer Che lo devi giocare bene Per come sono stati creati Cioè Slug Devi sluggare tantissimo Con loro E devi capire Oh mi sono incastrato nella L Devi capire come 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 sluggare Come hitare E chi cesare E non è facile I twins sono uno dei killer Più difficili da giocare Per questo Perché ha Conoscenze di meccanica Che sono leggermente diverse Più deboli Sì inutili No esatto Bene male con tutti i killer Puoi vincere Con tutti i killer Puoi vincere Kruger sarebbe freddi Sì Però non è inutili Capito Debole Inutile completamente No Ognuno ha il suo Ciao Buonasera Caro Come stai Vediamo qui La rancissa C'è la data buona Ma andato di qua Tanto Qui c'è il generatore Completato Quindi mi prendo anche lo speed È riuscito comunque a scendere Peccato Fuck Ciao Ma buonasera Cara Come stai Prenduti D'intendo Che killer Che ti ha a comprare Può spendere uno shard Soldi Freddi Freddi è uno Che non comprare Ma che bello Che non wiggla Grazie Odio il cavallo Ciao Buonanotte Lady Cosa ne pensi Di una sfida La voglio mettere La prova Una partita Solo Mori No kill Di gancio Bene No kill Di gancio Lì è che non devo Cercare il gancio Ma benissimo E puoi giocare Sadako Oddio Solo mori Beh Non è così Facile Ciao Buonasera Ragazzi Quarto mese Ma gentilissimo Caro Lì si sentono Un chilometro Ragazzi Non è così facile Pensandoci Perché spesso O si suicidano Prima O Succede qualcosa Nel mezzo No Sono perché Ho swingato Oh Bata GG Grazie boys Domandino Visto che nel relicchio C'è un perk Il cavaliere Dovrebbe essere buono Da prendere No Compri il cavaliere Fai prima Però onestamente Io non consiglio mai Di comprare i perk Nello scena reliquiario Di un killer Di quelli gratis O barra Comunque Far amabili Quelli di Richard